cooperativa agricola volpago offre carne d'eccellenza ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago ben trovati al meteo alta pressione ancora lontana dall'italia andiamo verso un fine settimana che a tratti sarà instabile il dettaglio di sabato 10 giugno sul veneto nuvolosità irregolare con probabili precipitazioni a carattere sparso generalmente assenti sulla costa o al più locali piogge in esaurimento entro fine giornata con maggiori spazi di sereno temperature stazionarie minime tra 15 e 19 gradi massime invece comprese tra i 24 e i 26 gradi all'incirca spostiamoci ora sul friuli venezia giulia anche in questo caso al mattino cielo in genere poco nuvoloso dal pomeriggio maggiore variabilità con rovesci e temporali sparsi temperature minime tra 16 e 18 gradi massime sui 24 26 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del trentino alto adige dove sarà soleggiato al mattino ma con temporali sparsi al pomeriggio e alla sera temperature minime intorno ai 19 gradi massime sui 28 29 gradi all'incirca dal meteo di antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci cooperativa agricola volpago offre carne d'eccellenza ci trovi a volpago del montello pieve del grappa tre baseleghe e presso lo spaccio del contadino a dolo e massanzago grazie per l'attenzione